pesaro capitale della cultura ritrova il museo liveriano anche il teatro rossini riapre le porte per il roff elezioni il pd provinciale sceglie i sei nomi da candidare vaccini al tribunale di pesaro primo caso di verifica sui contenuti spettacolo a fano per la nuova darsena borghese carissime telespettatrici e carissimi telespettatori un caloroso ben ritrovato con rossini news il telegiornale del canale 80 di rossini tv oggi martedì 2 agosto 2022 che apriamo con due notizie relative alla cultura sono stati riaperti due grandi luoghi qui a pesaro per essere restituiti alla nostra città capitale italiana della cultura 2024 ovvero il teatro rossini e il museo archeologico oliveriano museo che ha presentato in anteprima il suo progetto di riqualificazione e rinnovamento completato dopo otto anni di lavoro il servizio il mese di agosto di pesaro capitale della cultura si apre con la città che si rappropria del museo archeologico oliveriano è stato infatti completato il lungo e travagliato percorso di rinnovamento di questo luogo di palazzo almerici finalmente restituito alla città si dice che le cose attese siano anche più belle speriamo che sia così ce l'abbiamo messa tutta devo dire con una collaborazione unanime di tutta la città dimensione amministrativa politica tecnica culturale e devo dire che a me sembra anche un esito molto bello molto ben riuscito però sono parte in causa potrei quindi anche essere troppo ottimista ma credo che poi la città potrà apprezzare questa questo nuovo allestimento che è assolutamente nella tradizione ma con un carattere anche innovativo ed oggi dunque in anteprima sono state mostrate le sale rinnovate di questo progetto scientifico elaborato da chiara del pino archeologa del ministero della cultura che ha seguito tutto il progetto fin dalla sua genesi abbiamo deciso di rinnovare il museo in un momento in cui c'erano problemi di allestimento strutturali dell'edificio c'era una grossa presenza di umidità e quindi le sale andavano bonificate abbiamo preso da questo spunto per rifare totalmente l'allestimento riorganizzare le collezioni restaurare i numerosi reperti che hanno bisogno di un intervento conservativo e dare un nuovo filologico che potesse condurre il pubblico all'interno delle sale individuando dei temi principali e dando una disposizione sia scientifica che divulgativa all'esposizione abbiamo rispettato l'allestimento precedente nel senso che i reperti che erano esposti prima ci sono tutt'ora abbiamo abbiamo un po' rinnovato l'esposizione inserendo alcuni corredi provenienti dagli scavi che sono stati fatti dalla soprintendenza archeologica delle Marche che ho diretto io nella necropoli di Novilara tra il 2012 e il 2013 grazie a un importante finanziamento che abbiamo avuto dall'ufficio cultura del governo svizzero e a un aiuto della fondazione Scavolini abbiamo potuto restaurare quindi nuovi corredi che sono adesso entrati nell'esposizione. Chiara Del Pino ha dunque supervisionato un progetto di lavori lungo otto anni progetto museografico firmato dallo studio di architettura start di Simone Capra Claudio Castaldi e Dario Scaravelli. Il nuovo allestimento prevede nella prima sala la famosa stele della battaglia navale rivenuta nel 1866 nella seconda sala si ammirano i reperti della necropoli di Novilara necropoli dell'età del ferro e poi ancora la esposizione dei cippi del Lucus Pisaurensis introduce alla terza sala terza sala in cui sono presenti anche le epigrafi che ricordano gli abitanti di Pisaurum. Negli ultimi due ambienti della terza sala trova spazio anche il collezionismo settecentesco di Passeri e Olivieri. E dunque un lungo percorso di lavori così come è stato lungo e travagliato il percorso amministrativo che ha portato a questo risultato come ricordato anche dall'assessore alla bellezza nonché vice sindaco del comune di Pesaro Daniele Vimini durante la conferenza stampa tenutasi nell'auditorium di Palazzo Montani Antaldi. È stato un lavoro veramente complesso ci sono voluti diversi anni mi ne rendo conto però diciamo anni che non sono stati mai passati diciamo senza lavorarsi ma anzi a risolvere i vari problemi che mano a mano venivano fuori in un palazzo comunque storico che era partito anche con alcune difficoltà strutturali ma che ora ci restituisce insomma la meraviglia di un museo non solo completamente rinnovato ma bellissimo a vedersi anche dal punto di vista stilistico e architettonico. Un nuovo cuore pulsante all'interno del centro storico oggi presentiamo come da impegno che ci sono andati il primo agosto di quest'anno dove esserci il ministro Franceschini che poi ha avuto altri problemi però siamo pronti con la parte allestitiva ci vorrà qualche settimana in più che probabilmente coinciderà con la riapertura delle scuole per completare invece una nuova ala perché poi in tutto questo c'è anche un ampliamento una nuova ala che è quella che racchiude i bagni, i camerini, gli armadietti, il bookshop tutta quella parte di accessi di accoglienza che ovviamente verrà realizzata nelle prossime settimane ma già da domani i primi gruppi nel mondo della scuola e i gruppi anche prossimamente che si mette a Trotau con lo spettacolo di Popolizio potranno alcuni spettatori vedere il museo organizzeremo visite per gruppi anche durante il rossino per la festa quindi il museo di fatto entra nella sua piena visitabilità di questo siamo molto felici e ovviamente diventa appunto un motore trainante anche per la corsa verso la capitale italiana della cultura 2024 e come il museo Oliveriano apre i battenti anche il teatro Rossini reduce da lunghi mesi di lavoro ma ora pronto ad ospitare per l'ennesimo anno il Rossini Opera Festival un teatro riaperto appunto per presentare anche oggi la 43esima edizione del festival che parte tra una settimana ma anche per annunciare i titoli della prossima stagione quella del 2023 vediamo il servizio il teatro Rossini doveva essere pronto per la stagione del ROF e infatti così sarà teatro che sarà una delle due location che ospiterà la 43esima edizione del Rossini Opera Festival oltre alla confermata Vitri Frigo Arena dove per 12 giorni di concerti dal 9 al 21 agosto l'opera e la musica lirica incontreranno un pubblico numeroso e multiculturale grazie all'assenza dei limiti dettati dal protocollo anti-covid ROF che torna a casa sua naturalmente e soprattutto è bello vedere il teatro con la platea la buca dell'orchestra perché per quanto affascinante è la situazione con il palco rialzato sono tutte le invenzioni anche meccaniche e sceniche che siamo inventati nei due anni del covid però chiaramente è un po' quello che ci si aspetta per il ritorno alla normalità delle produzioni la soddisfazione per un festival che ritorna ai numeri e alle dinamiche che conoscevamo forse anche qualcosa di più con già un risultato sopra le previsioni rispetto ai botteghini ma soprattutto anche un ritorno dai vari paesi del mondo quindi non solo appunto Francia, Germania, Inghilterra che sono i tre primi pubblici ma anche un ritorno degli americani, degli giapponesi, insomma di quelle parti del mondo che c'erano precluse dalle normative dei problemi anche più gravi che abbiamo vissuto in questi due anni Un ricco programma che tra le tante opere prevede due nuove produzioni e la ripresa della Gazzetta La prima della Gazzetta andrà in scena il 10 agosto al Teatro Rossini mentre l'appuntamento con Otello, reintrodotto dopo anni, sarà l'11 agosto alla Vitrifrigo Arena Nel palazzetto avverrà anche l'inaugurazione del festival che sarà martedì 9 agosto con l'Ecom Tori concerto che vede su tutti la presenza del tenore peruviano Juan Diego Flores Devo dire che lo spettacolo che faccio io come cantante è fantastico, sarà molto divertente è una opera forse la più divertente per me anche come ruolo con Tori nella produzione rossiniana Alla vigilia del 43esimo ROF sono stati però resi noti anche i titoli del festival del prossimo anno Abbiamo detto i titoli, la premiera assoluta in edizione critica di Edoardo e Cristina che era l'ultimo titolo mancante nella programmazione ufficiale delle 39 opere di Rossini la ripresa di Aureliano in Palmira che vede il ritorno di Mario Martone e per finire la Adelaide di Borgogna che anche quella si è vista solo due volte qui da noi Ed ora ci occupiamo anche della marcia di avvicinamento alle prossime elezioni politiche del 25 settembre in quanto dopo varie consultazioni il Partito Democratico di Pesaro Urbino ha scelto e inviato al commissario regionale Alberto Losacco i sei nomi candidabili al Parlamento Si tratta della deputata uscente Alessia Morani, del consigliere regionale Andrea Bancani, del segretario provinciale Rosetta Fulvi del vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, dell'ex sindaco di San Costanzo Margherita Pedinelli e del sindaco di Serra Santabondio Ludovico Caverni Ora si attende la valutazione del PD nazionale E il Tribunale di Pesaro può fare da apripista ad una nuova strada giuridica col primo caso accolto di consulenza tecnica approfondita sul contenuto dei vaccini anti-Covid Un caso seguito dall'avvocato Nicoletta Morante che ascoltiamo in questo servizio Nell'aula del Tribunale di Pesaro è arrivato un caso più unico che raro sul panorama giuridico italiano E' stato infatti accolto il ricorso di un ultracinquantenne pesarese guarito dal Covid ma riluttante a sottoporsi al vaccino al momento di rientrare a svolgere i suoi oneri professionali e lavorativi E' scattato il ricorso davanti al giudice che ha accolto la richiesta di perizia e consulenza tecnica per approfondire e verificare i contenuti del vaccino mRNA su un soggetto guarito dall'infezione Un caso in sede civile che è seguito dall'avvocato pesarese Nicoletta Morante Il mio cliente è un ultracinquantenne libero professionista è anche abilitato all'insegnamento oltretutto, cosa che non ha potuto fare negli ultimi due anni e si è trovato impossibilitato a svolgere normalmente la propria attività Da qui l'intenzione è di chiedere un accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Pesaro sui dubbi che questa persona aveva e quindi la prima cosa era l'obbligatorietà del vaccino pur essendo egli un guarito quindi la prima cosa era appunto chiedere agli esperti se l'obbligo vaccinale per i guariti sia effettivamente una buona pratica medica e la seconda era appunto basata sulle ricerche che aveva fatto questo cliente circa degli eccipienti ad uso non un guano utilizzati nei vaccini questi sieri e poi ci si è chiesti anche se effettivamente sulla base di una documentazione che avevamo già e di una pubblicazione che ha fatto per questa causa il dottor Ansovini effettivamente il funzionamento dell'mRNA messaggero quindi si sta parlando solo ed esclusivamente di vaccini a mRNA sia possa essere dannoso per la salute o enzimi contenuti all'interno di questi sieri possano essere parimenti pericolosi per la salute da qui la richiesta di accertamento e non dimentichiamo che tra i vari quesiti c'è anche quello un po' particolare sul consenso informato consenso informato che l'azienda sanitaria locale quindi quella Lasur Unica Marche chiede anche agli obbligati sappiamo che il consenso informato solitamente attiene a un contratto e quindi fissa le condizioni del contratto e quindi parlare di consenso informato all'interno di una fattispecie dove vi è obbligo è un po' un controsenso anche su questo abbiamo chiesto l'UMI al CTU e poi li chiederemo nella causa di merito logicamente estendo anche questioni giuridiche al giudice e vorremmo analizzare anche dettagliatamente il modulo di consenso informato che si sottopone anche agli obbligati Ora si aspettano gli accertamenti tecnici che partiranno a fine settembre Il consulente nominato dal giudice vorrà anche ampliare la ricerca le analisi che vorrà fare tutto quello che vorrà fare lo faremo in contraddittorio con l'Azur e siamo anche molto contenti del contraddittorio perché pensiamo sempre che la realtà e la verità debbano essere accertate sempre con una buona dialettica e quindi sono importanti anche le controparti Bagno di folla ieri sera a Fano per l'inaugurazione della nuova darsena borghese dopo una lunga attesa è stata presentata la nuova veste di uno dei luoghi simbolo della marineria della città Una ballerina intenta a volteggiare tenuta in volo da un folto grappolo di palloncini il tutto tra musiche suggestive e giochi di luce Ecco lo spettacolo dal titolo Molecole Show che lunedì sera ha tenuto centinaia di persone con il naso all'insù durante l'inaugurazione del primo stralcio della rinnovata darsena borghese di Fano Sì è un grande momento perché restituiamo alla città la darsena borghese nel suo massimo splendore con questa riqualificazione, questo recupero ma soprattutto perché ha un valore non solo storico ma c'è un legame forte ed ha in qualche maniera il porto antico della città che fa da cerniera col centro storico e quindi si potrà passeggiare dalla piazza andando fino verso il mare passando per la darsena Un restyling, quello della darsena, costato 405 mila euro tra restauro, illuminazione scenografica e la creazione della passeggiata romantica Grande attenzione poi alla sicurezza per preservare un'area che anche di recente è stata a suo malgrado scenario di atti vandalici Gli interventi all'interno di questo spazio sono stati di più natura Natura architetturale perché siamo intervenuti in tutta la parte muraria quindi legata a quelli che sono i passaggi pedonali sia qui davanti alla discesa, davanti al bene monumentale proprio superando quelle che sono le barriere architettoniche proprio per favorire l'accessibilità a tutti ma anche nella riqualificazione di tutte le parti murari delle cinte sia sulla parte verso il punto del porto ma anche proprio sul dorso del bene monumentale Siamo intervenuti anche nelle scalinate, riqualificandole abbiamo riqualificato la passeggiata romantica con un materiale di levo celgiallo che è aderente a quello che poi è la facciata, la qualità del monumento e oltre questo invece c'è stata una riqualificazione di carattere luminoso quindi abbiamo fatto un'illuminazione scenica, scenografica, architetturale sia rivolta verso il bene che sul perimetro del monumento, scarpate comprese oltre questo c'è stato un rinverdimento delle scarpate con delle piante autoctone dei nuovi arredi proprio per creare un luogo vivibile, accessibile a tutti non a caso abbiamo ottenuto per l'appunto anche un finanziamento da parte della regione proprio per avvicinare le persone all'interno della zona porto Per quanto riguarda la sicurezza ringraziamo la Lega Navale perché ci ha già aiutato ad installare sei telecamere che sono già state funzionali negli atti vandalici successi pochi giorni fa è sicuramente un luogo che va preservato e se c'è un aiutino questo non guasta È dunque tutto pronto per far sì che la Darsena torni a celebrare la storia e la cultura della marineria fanese ma è anche arrivato il momento che questo luogo così ammaliante recuperi la sua forte vocazione turistica Un grande momento della città, una riqualificazione importante di uno dei luoghi più importanti del nostro patrimonio storico-culturale La nostra parola d'ordine è emozionarsi e far emozionare ed è per questo che oltre a una bellissima riqualificazione che rende merito veramente a questo momento abbiamo pensato anche un video racconto in questa grande parete che è alle mie spalle che sta proprio sulla Darsena borghese che sarà proprio un video racconto oggi della Darsena storica parlerà della storia della marineria e le sue genti quindi saprà dare le giuste suggestioni e le giuste emozioni a chi durante le serate di quest'estate arriverà nella nostra città In questo momento è uno spazio gestito magistralmente dall'Associazione Nazionale dei Marinari d'Italia uno spazio dove avvengono una serie di mostre che parlano appunto della marineria di tematiche legate alla pesca appunto alle genti, alle nostre tradizioni ma potrà anche essere luogo visto questo bellissimo prato che è proprio di fronte alla marineria come lo è già stato luogo di eventi, di attività che possono valorizzare al meglio questo luogo E a proposito di futuro la rivoluzione della Darsena borghese di Fano è tutt'altro che conclusa Questo è soltanto il primo intervento perché ne seguiranno altri due già finanziati e già in progettazione con un nuovo sottopasso che consenterà di arrivare a piedi fino al porto ma quello che mi preme sottolineare è che a parte le suggestioni di questo luogo trasmettono alle persone, alle tantissime persone presenti oggi ne sono una testimonianza ma è la valorizzazione della città che si unisce ad altri recuperi e soprattutto al lavoro che faremo di valorizzazione di tutto il nostro lungomare del nostro porto Quindi questa sera veramente è uno spettacolo nello spettacolo e non nascondo una grande soddisfazione perché era uno degli obiettivi che avevo sin dall'inizio del mio primo mandato Ed ora ci occupiamo del nuovo report del Ministero della Cultura sui musei italiani più visitati nel 2021 dove nonostante i mesi di chiusura dovuti al Covid che hanno condizionato le attività dello scorso anno Gradara con la sua splendida rocca rimane saldamente nella classifica dei luoghi culturali più visitati nel 2021 Piazzandosi al 25esimo posto con ben 106.752 visitatori E parte giovedì 4 agosto un giro d'olio DOP Cartoceto in viaggio tra le spiagge della costa Si tratta di una iniziativa promosso dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Cartoceto in collaborazione con l'Associazione Albergatori Fano e con Primo Raccolto Il progetto mira a far conoscere e valorizzare l'olio DOP Cartoceto attraverso incontri con i produttori e degustazioni direttamente in spiaggia Quattro gli appuntamenti si inizia giovedì presso i bagni Sergio di Fano si continua poi il 18 agosto allo Chalet Salsedine di Marotta Da domani e fino al 13 agosto tornano 10 giorni di musica dal mondo nelle terre dell'Appennino pesarese e danconetano con il festival Alte Marche Altra Musica che quest'anno sarà dedicato alla memoria del compianto Daniele Tagliolini coinvolti i comuni di Arcevia, Cantiano, Frontone, Piobbico, Peglio, Pergola, Pesaro, Sassoferrato e Serra Santabondio Le prime date saranno a Pesaro dove il 3 agosto da Fiorenzuola di Focana si comincia con lo sguardo ai Balcani del Simchabentrio Giovedì 4 agosto il conventino di Monticicargo ospita invece la sacerdotessa del postfadu Lula Pena mentre il 5 agosto l'oasi Oikos sul San Bartolo ospiterà il trio di Damir Imamovic, una delle più rappresentative voci di Sarajevo Questa sera alle 21.20 Rossini TV trasmetterà la prima delle quattro serate che hanno confezionato la cinquantesima edizione del Festival Canoro Gallo d'Oro Si tratta di una serata dedicata a mezzo secolo di tradizione del Festival mentre giovedì alle 21.20 trasmetteremo la serata dedicata al concorso che ha decretato i vincitori di questa edizione 2022 Premi e curiosità che affrontiamo in questo servizio 50 festival celebrati in quattro serate sospese fra il passato di una tradizione di mezzo secolo e quel futuro a cui guardano le voci dei giovani talenti che si sono cimentati nel premio musicale Ecanoro che per cinque decenni ha tirato centinaia di cantanti a Gallo di Petriano Nel weekend appena trascorso il Festival Gallo d'Oro ha infatti celebrato la sua cinquantesima edizione premiando il talento di Tatiana Macarena Severini prima classificata sul palco di Piazza Cavour in un podio completato da Nilo Ferrari e Arianna Donati Applausi condivisi con Andrea Budassi che ha vinto il premio per il migliore inedito in una carrellata di riconoscimenti allargatisi al premio Don Luigi per il caseificio Val d'Apsa e al premio Memorial Francesco della Betta assegnato a Gianmarco Cecconi questi i riconoscimenti di un sabato sera che ha visto gareggiare 13 concorrenti marchigiani e romagnoli presentati dalla nostra direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi accompagnata da Andrea Catavolo e Ugo Palmisano concorrenti che sono stati valutati dalla giuria di qualità composta da Luca Pitteri, Frida Neri e Stefano Venturi una serata a concorso che si potrà riapprezzare su Rossini TV giovedì 4 agosto alle 21.20 mentre sullo stesso canale 80 martedì 2 agosto sempre alle 21.20 andrà in onda la prima delle quattro serate dedicate alla lunga tradizione del festival ideato a inizio anni 70 da Don Luigi all'ora parroco del paese una serata all'insegna del revival alla presenza degli artisti che si esibirono nelle prime edizioni del festival ma anche della simpatia travolgente del barzellettiere Bicio risate e replicatesi anche venerdì nella seconda serata aglietata dai comici Vasumi e Scintilla per un cinquantesimo compleanno che si è chiuso con il gran finale della serata di gala che domenica ha celebrato uno straordinario anniversario e passiamo allo sport si conclude oggi il ritiro precampionato della Vispesaro in Trentino nella località di San Lorenzo d'Orsino ieri la Vis ha chiuso l'esperienza con un importante test amichevole vinto 4 a 1 contro la squadra Primavera del Verona a segno due volte di Paola e in gol anche Egarevba e Pellizzari Vis vigile anche sul mercato dove si è agli ultimi dettagli per le ufficializzazioni di due importanti pedine esperte il difensore centrale Bacaglio Co proveniente dalla Pontedera e l'attaccante esterno Fedato in arrivo dalla Lucchese giovedì 4 agosto alle 18 la Vis è attesa da un amichevole di lusso contro il Sassuolo avversario di Serie A si giocherà allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo e concludiamo con i motori andando a vedere l'esito delle gare del Team MR Racing del Campionato Italiano Velocità Moto 3 che si è tenuto questo weekend nel circuito di Misano Adriatico Sabato 30 e domenica 31 luglio sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico è andato in scena il quarto appuntamento del Campionato Italiano Velocità per il Team MR Racing di cui Rossini TV e Media Partner è stato un weekend assolutamente difficile entrambi i piloti che corrono nella categoria Moto 3 pur migliorando i tempi sul giro in ogni sessione di prove in questo circuito molto tecnico e reso ancor più difficile dal caldo non sono riusciti a conquistare posizioni in griglia di partenza adatte alla loro potenzialità tant'è che al termine del secondo turno di qualifiche Matteo Morri partiva dalla sedicesima casella e Gian Paolo Di Vittori dalla diciottesima in gara 1 sabato entrambi i piloti dopo pochi giri nella volontà di poter migliorare la loro posizione sono rimasti coinvolti in quelle che in gergo si chiamano forze laterali scivolando a terra fortunatamente senza conseguenze mentre erano impegnati nel rimontare posizioni domenica mattina nel turno di warm up i tempi fatti registrare avevano riacceso gli animi sia di Morri sia di Di Vittori addirittura Morri in pochi giri ha registrato il suo miglior tempo di sempre sul circuito di Misano con 1.43.97 mezzo secondo meglio del tempo della qualifica anche Di Vittori migliorando la sua prestazione aveva mostrato un aumento di feeling con il circuito purtroppo nella gara del pomeriggio Matteo Morri è rimasto vittima di una brutta caduta che del tutto involontariamente ha coinvolto anche il pilota che lo seguiva dopo essere stato portato per dei controlli al medical center del circuito a Matteo è stata riscontrata una contusione alla caviglia sinistra e una sospetta infrazione dello scafoide metatarsale visto l'impatto a terra nella caduta possiamo dire che i dispositivi di sicurezza utilizzati come airbag, casco, paraschiena, guanti e stivali hanno svolto un lavoro di protezione eccezionale Di Vittori invece ha tagliato il traguardo in quindicesima posizione migliorando giro dopo giro il suo passo gara ora c'è la pausa estiva che permetterà a Matteo di rimettersi al meglio e a Giampaolo di continuare ad allenarsi in vista del prossimo round che si terrà nel circuito toscano del Mugello il 17 e 18 settembre Prima di lasciarvi alle previsioni del tempo ricordiamo gli appuntamenti con il palinsesto di Rossini TV per questa sera alle 21.20 come dicevamo prima Festival Gallo d'Oro Serata della Tradizione presentata da Paolo Cioppi Claudio Marini Manuelita Cialdini e Mauro Della Betta con ospite il comico e barzellettiere Bicio l'antidepressivo naturale e rimandiamo l'appuntamento con la lettura dei quotidiani regionali il Corriere Adiratico e il resto del Carlino domani mattina con l'ennesima edizione di Buongiorno Rossini alle 7.20 in diretta sul Canale 80 ma anche in diretta live sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra app è tutto per questa edizione di Rossini News noi ci rivediamo domattina appunto con la rassegna stampa Buongiorno Rossini ringraziamo le telespettatrici e i telespettatori che ci hanno seguito e auguriamo a tutti una splendida serata